Musica Decimo giorno di ritiro qui a Castel di Sangro, quest'oggi l'allenamento pomeridiano congiunto con il Castel di Sangro. C'è stata una partita 11 contro 11, chiaramente vinta con ampio margine dagli azzurri per ben 8 a 0. In gol Olivera, Juan Jesus, Gaetano, Zedatka, doppietta poi di Zerbin e di Unas. Su tutti chiaramente si sono messi mostra proprio Unas e Zerbin, bene anche Olivera. Chiaramente questi sono tutti quanti i giocatori che non hanno giocato, hanno giocato poco nell'amichevole di ieri contro il Mallorca. Tutti gli altri invece hanno svolto dell'attivazione a secco e un po' di lavoro in palestra. Giovanni ti chiedo subito un pensiero comunque sulla partitella che abbiamo visto. Ritmi inizialmente un po' blandi, poi successivamente nel secondo tempo due tempi da 30 minuti. Quindi non proprio una partita a tutti gli effetti. Tra l'altro alla fine del primo tempo è anche uscito Ambrusino e non è più ritornato in campo. Il Napoli addirittura è rimasto in 10. Ti chiedo un pensiero. Sì Claudio, come dicevi, forse questo fatto che il Napoli sia rimasto in 10 magari ha dato al Castel di Sangro un attimo quella speranza di fare quel gol della bandiera. È stato un momento anche proprio per loro. Il Castel di Sangro è una squadra che milita in eccellenza. Quindi anche una passerella, l'opportunità di poter giocare contro dei campioni che giocano la Champions in Serie A. È stato bello poi anche Luciano Spalletti alla fine che è andato a salutare tutta la panchina del Castel di Sangro. I giocatori hanno scattato foto, selfie, qualche abbraccio, tante risate. Come dicevi tu, la partita ci sono poche indicazioni ovviamente da dare. È come la partitella in famiglia che si fa durante i classici allenamenti settimanali, durante il campionato. Sicuramente i calciatori che ieri hanno giocato meno era oggi un motivo per poter mettere minuti in più nelle gambe rispetto appunto a un allenamento normale. Sì, ti chiedo soltanto di un giocatore in particolare perché mi sembrava un po' come se fosse completamente al di fuori, al di sopra. Parlo di Unas, doppietta però davvero dribbling, contro dribbling, sempre con estrema semplicità. Si vedeva forse anche un po' lo scarto del livello, visto superiori anche, ti dico, Olivera e Gaetano e anche Zerbino piuttosto bene. Quindi giusto una parentesi su questi giovani e poi chiudiamo. Sì, di Unas soprattutto ne parliamo spesso, dicendo che il ragazzo ha un gran talento, tecnicamente è un calciatore di ottimo livello. Purtroppo alle volte è un pochettino anarchico, tatticamente non rispetta la posizione in campo. E poi questo sappiamo che agli allenatori non fa piacere questi calciatori un po' genius, regolatezza. Gli altri che hai detto tu sono i famosi, a parte Olivera che è in neo arrivato, ma Gaetano e Zerbino sono giocatori che si sono messi in mostra in Serie B. E quindi il Napoli e Spalletti stanno valutando se dare questa opportunità a loro di poter giocare la Serie A. Hanno comunque richieste di presto sul mercato. Vedremo perché anche oggi anche loro come Unas hanno dimostrato di avere grande tecnica, chissà se però hanno il carattere e poi magari anche l'esperienza per poter giocare poi a certi livelli. Sì, il nostro aggiornamento ovviamente è a domani quando alle 10 ci sarà l'allenamento mattutino a porta aperte, quindi sarà possibile vederlo nel pomeriggio invece a porte chiuse. Per il momento dallo stadio Teofilo Patini, da Claudio Vivenzio e Giovanni Frezzetti è tutto.